Cari amici dell'Orizzonte degli Eventi, buongiorno e buon anno, buon 2020. Vi presento subito il primo video di quest'anno che vede il ritorno di Mario Arturo Iannaccone. Un altro autore che si è aggregato a questo canale, e attenzione che durante questo video ci saranno dei prossimamente su alcuni argomenti che vogliamo proporvi, che sono come sempre aperti ai vostri commenti e ai vostri suggerimenti, Oggi di che cosa parliamo? Parliamo di un argomento molto strano, perché parliamo di comunismo magico, della stranissima preparazione della Salma di Lenin, che poi sarebbe stata sistemata dentro una ziggurat babilonese. Parleremo anche di personaggi stravaganti, ma molto potenti nei primi anni del bolshevismo, come Bogdanov, che scrisse un libro, Stella Rossa, dove immaginava Marte abitato da una popolazione aliena che aveva realizzato il comunismo. Ma non solo, parleremo non solo di questo, parleremo anche dei padri molto molto stravaganti dell'astronautica sovietica. Commenti? Tutto quanto vi viene in mente e ci vediamo tra pochissimi secondi. Ciao! Buonasera, ben ritrovati ancora una volta sull'orizzonte degli eventi. agli amici che ci seguono e che ci seguiranno, sempre più numerosi in futuro. È tornato a trovarci, mi fa molto piacere, Mario Arturo Iannaccone. Buonasera! Buonasera! Grazie per l'invito! Il tuo video precedente ha avuto molto seguito, interessa molto, quindi abbiamo pensato di farne un altro in modo da continuare questa piacevole abitudine che c'è qui sull'orizzonte degli eventi e di non considerare conclusa l'esperienza con gli autori che ospitiamo, ma di continuarla con altre occasioni di incontro. Allora, di che cosa parliamo oggi? Parliamo di qualcosa di decisamente poco noto in Italia. Parlavamo prima con Mario, ricordavamo gli studi di Marco Dolcetta, che ha realizzato tempo fa anche un bel documentario per la RAI. Mentre c'è moltissima letteratura sul nazismo magico, ecco, sul comunismo magico invece c'è poco, sì, io ho trovato questo documentario di Dolcetta, lui si è occupato di, ha scritto diverse cose su questo argomento, ma ho piacere appunto di parlarne con Mario Arturo Iannaccone perché lui ha delle altre fonti. Come si può cominciare a parlare di questo argomento che toccherà inevitabilmente i temi dell'esoterismo, di una certa strana commistione tra materialismo che dovrebbe, insomma, rifuggere queste contaminazioni esoteriche e invece un mondo molto, diciamo, un mondo spirituale a costante, spirituale tra virgolette, che è molto importante in questa ideologia del Novecento. Certo, cerchiamo un pochino di, proverò a inquadrare un pochino il tema in modo sintetico. Allora, diciamo innanzitutto che quando si parla di comunismo magico, è una locuzione che si è diffusa abbastanza, quasi sempre si parla di dottrine che sono nate prima del marxismo, compresa la teosofia, e che sono entrate in alcune correnti del bolshevismo e del comunismo attuato, quindi sovietico, nel corso degli anni. Quindi faremo un discorso su questo argomento che comunque è affascinante e copre tutto il periodo che va dalla fine dell'Ottocento alla rivoluzione d'ottobre e oltre, fino agli anni 30 e oltre. E poi c'è un altro discorso che si può fare in parallelo, magari come introduzione, che riguarda il comunismo in sé, cioè il comunismo in sé che è considerato giustamente, io trovo da molti studiosi ormai, come una forma di ignosi, come un chiliasmo, cioè una forma di rifacimento del mondo, o almeno così si concepiva in Unione Sovietica, e già in alcuni scritti di Engels, meno di Marx, quindi una dottrina che aveva lo scopo di rigenerare il mondo distruggendo tutto quello che c'era prima e che proponeva il proletariato come messia di questo mondo. Quindi sono questi due aspetti che nell'Unione Sovietica a un certo punto si fondono, trovano un'armonia e per alcuni decenni proseguono, vedremo alcune tappe di questo progresso, secondo i dottrinari marxisti, che però è stato un progresso che ha prodotto milioni di morti. E quindi partendo da questo si può dire innanzitutto che già Engels considerava il marxismo, questo per esempio l'hanno studiato Pellicani, uno studioso italiano, ma anche Lukács, consideravano il proletariato come il nuovo messia. Quindi un messia che doveva essere portato al mondo da un paracleto, diciamo, che era il partito comunista e veniva anche prospettata l'esistenza di una sorta di precursore di Giovanni Battista che nello schema sovietico noi ritroviamo nella figura di Jenin. Jenin è il precursore, quello che fa nascere la rivoluzione europea, grazie a soldi anche occidentali, perché c'è anche tutto questo aspetto che se facciamo tempo magari un pochino prendiamo. Ci sono gli studi di Sutton che sono molto precisi su questo, sia per i finanziamenti alla rivoluzione d'ottobre, sia quelli poi in seguito al partito nazista. Ci sono dei finanziamenti pesanti che vengono dati a queste forme di tra virgolette socialismo, perché il partito nazista si chiama partito nazionalsocialista, quindi sono forme di socialismo molto particolari, sicuramente che non rispecchiano chi voleva effettivamente una società migliore, progredita e soprattutto giusta. Poi c'è anche il discorso della guerra, della prima guerra mondiale dove la Germania aveva interesse che la Russia uscisse dalla guerra combattuta, dal gioco. Scusa ti ho interrotto? No, no, assicurati, è giustissimo, assolutamente giusto. Finivo magari questa breve introduzione che però penso sia interessante per inquadrare un pochino anche proprio l'agnosi marxista. Leggendo per esempio alcuni scritti di Engels che parlano di Schelling e del romanticismo tedesco, noi leggiamo che Engels proponeva il marxismo come una liberazione totale che doveva ricorrere a un nuovo graal. Si parlava di un regno millenario, quindi dell'istituzione di un nuovo regno millenario che sarebbe stato appunto istituito da questa rigenerazione del mondo. Allora questo ci fa capire come già in questi autori che teoricamente erano totalmente materialisti funzionava un linguaggio che era un linguaggio di tipo sacro, sacrale, esoterico, perché il regno millenario lo ritroviamo anche non solo nel cristianesimo ma lo troviamo nel nazismo. Il Reich è millenario, appunto. Assolutamente. Il graal è un tema amatissimo dall'esoterismo di tantissimi gruppi esoterici. E poi si parlava dei cavalieri, cavalieri teutonici, cavalieri portaspada, che avrebbero aiutato, che era il partito poi fondamentalmente, che avrebbero aiutato alla rigenerazione del mondo. Allora c'è questo elemento nel marxismo, questo elemento diciamo così sacrale, ma direi proprio gnostico-chiliastico, rigenerazione, distruzione del mondo e rifacimento del mondo. Però conviene anche vedere qualcosa che succede parallelamente, quindi fare un po' mente locale sugli ambienti della Russia di fine ottocento e dei primi vent'anni del novecento, nei quali si formano molti capi del bolshevismo. Quindi volendo possiamo far questo adesso. Certo. Prendiamo un personaggio che viene spesso citato in questi casi, che era Nikolai Fedorovic Fedorov. Nikolai Fedorov è stato un filosofo, un filosofo della religione, uno strano personaggio che viveva fondamentalmente in una biblioteca coltissimo. Uno di quei veggenti russi con barba lunga, che ha scritto moltissimo, il quale a un certo punto della sua vita ha una sorta di visione. Lui arrivava dall'ortodossia, poi è uscito dall'ortodossia e comincia a scrivere un'opera, una serie di opere in realtà in più volumi, che sono conosciuti come filosofia della causa comune, che avranno una profondissima influenza sulle prime generazioni di bolshevichi, sulle prime generazioni di marxisti leninisti sovietici. Che cosa diceva Fedorov? Beh, innanzitutto diceva che il grande e unico e fondamentale male per l'uomo è la morte, è la morte. Che il compito, la causa comune dell'uomo come individuo e come collettività è vincere la morte. E sosteneva che soltanto il nuovo uomo proletario sovietico, lui muore prima dell'avvento del comunismo come regime, però entra a far parte di quell'ambiente, di quei gruppi. E sostiene che quello che riuscirà a fare la scienza sarà sconfiggere la morte. Anzi, questo è lo scopo fondamentale. E lo scrive in pagine che sono assolutamente tra il folle e l'ispirato. Lui vede una futura scienza potentissima, anzi onnipotente, che letteralmente farà risorgere i morti dalla tomba. Come? Probabilmente immaginava qualcosa di simile a quello che noi oggi conosciamo come DNA o qualcosa del genere, che allora non esisteva ancora. Quindi questa era l'evoluzione che l'umanità doveva raggiungere e Fyodorov, nell'elaborare questa sua dottrina della causa comune, era certamente influenzato dalla teosofia, fortemente influenzato dalla teosofia. La teosofia la troviamo come in flusso assolutamente in molti dei primi capi bolshevichi, come Luna Charsky, ma lo stesso Jenin. L'antroposofia, Rudolf Steiner va diverse volte in Russia in quel periodo, e naturalmente anche la massoneria occultista ed esoterica. Questo signore ha una serie di discepoli che troviamo appunto nelle prime generazioni di bolshevichi. Uno dei più noti è certamente Zolkovsky. Zolkovsky è notissimo a quelli o a coloro che si interessano di colonizzazione spaziale, perché Zolkovsky è il padre dell'astronautica russa. Quella concreta. Assolutamente, uno scienziato, un grande scienziato, comunque un tecnico, tecnologia applicata. Ed è singolare, secondo me, vedere come sia negli Stati Uniti che in Russia, quasi nello stesso periodo, due dei principali scienziati che fanno sviluppare la missilistica, però quella volta all'esplorazione dello spazio, siano degli occultisti. Parsons. Esatto, perfetto, Jack Parsons, esatto, che è della, diciamo, della banda di Aleister Crowley, un po' diversa da questa, ma Zolkovsky ha degli aspetti simili. Lui teorizza la colonizzazione planetaria, questa è la missione fondamentale dell'umanità, era ovviamente favorevole all'eugenetica, era influenzato da Fyodorov, era convinto che in un futuro non lontanissimo si sarebbe sconfitta la morte, quindi parla di piani spaziali, parla di pianeti, parla di razze aliene. E qui poi ci torneremo perché è interessante questa cosa. Pianeti sui quali far rivivere coloro che erano morti, quindi colonizzare, questo è il cosmismo. Sì, sì, qui siamo già al cosmismo, naturalmente il cosmismo, i costruttori di Dio, tutti questi movimenti di cui magari parliamo un pochino, si sovrapponevano, nel senso che a volte gli stessi personaggi facevano parte di un movimento o dell'altro, ma questi sono tutti o dei dirigenti sovietici o comunque sono vicini al partito, al partito marxista e hanno dei, cioè gli vengono dati degli incarichi molto importanti. L'altro famoso, influenzato da Fyodorov e Bernardischi, che è un altro di questi signori con la barba bianca, facevano queste foto bellissime in cui apparivano di solito anziani con queste lunghe barbe, gli occhialini, i capelli lunghi, diversamente da me, impettinati all'indietro, con questi sguardi da veggenti. Questo è, si sa, insomma, perché oggi è anche piuttosto noto colui che ha inventato il termine di no-sfera, quindi la sfera in cui agisce l'essere umano, l'essere umano che diventerà, grazie alla rivoluzione sovietica, all'uomo nuovo e all'agnosi marxista realizzata in Russia, onnipotente, tanto onnipotente da poter sconfiggere la morte, da poter, diciamo, colonizzare lo spazio, ovviamente, e addirittura modificare completamente la terra, quindi poi da no-sfera, lui è padre sia del termine no-sfera che per conseguenza del termine biosfera, quindi sono comunque scienziati che hanno scritto delle opere comunque considerate ancora oggi importanti. Era convintissimo dell'esistenza di razze aliene, di extraterrestri, allora l'interesse per gli extraterrestri nella Russia sovietica è costante, sin dall'origine, sin dall'origine del regime e su questo poi magari dirò ancora qualcosina. Diciamo poi che ci sono altri personaggi che, beh, certamente parlerei di Bogdanov, Alexander Bogdanov, altro personaggio importantissimo che fa parte della prima troica, troica non quelle dell'Unione Europea, ma la prima troica dei bolshevichi, praticamente, assieme agli Enin e a Molotov, e costui apparteneva al cosiddetto movimento dei costruttori di Dio, un altro movimento che è influenzato da Bogdanov, che fa parte della nomenclatura sovietica delle origini e che era un rivoluzionario con accenni mistici il quale era convinto che l'uomo potesse letteralmente creare Dio, cioè creare Dio attraverso l'azione combinata di tutta la massa del popolo. A me questa idea in realtà ricorda molto il concetto di egregora, no? Esatto, volevo dirlo. Di solito non viene richiamata questa cosa, ma Bogdanov, leggendo Bogdanov, Bogdanov ha scritto anche dei romanzi, uno poi lo faccio vedere, questo qui è stato recentemente ritradotto Stella Rossa, poi insomma vediamo un pochino perché ne parliamo e lui appunto sosteneva che si potesse creare Dio, che l'umanità potesse diventare Dio, potesse divinizzarsi in un certo senso. Bogdanov consideriamo che è a un certo punto il rivale di Lenin, cioè c'è un momento nel quale lui rischia di prendere il comando del partito comunista sovietico, quindi non erano personaggi di secondo piano, a volte erano personaggi di primo piano. Era molto ammirato da Lenin e considerava, ecco tra l'altro lui considerava Satana il vero eroe, cioè il prototipo dell'eroe sovietico, Lucifero Satana, lo chiamava proprio Satana. Anche lui era uno scienziato, figura poliedrica, era uno scrittore, un ideologo, un romanziere ed era un modello per Lenin. Quindi troviamo vicino a Lenin questo tipo di personaggi, cosmisti, costruttori di Dio, questi due gruppi molto vicini tra di loro, entrambi influenzati da Fyodorov. Fyodorov muore nel 1907, questi vivono fino agli anni venti, gli anni trenta, Bogdanov per esempio muore nel 1928. Beh lui aveva per esempio una teoria secondo la quale il sangue, il sangue, letteralmente il sangue fisico, era il fluido che poteva favorire magicamente in un certo senso, non usava la parola magicamente, ovviamente non la usava perché vigeva una forma di materialismo assoluto, ma questo era ufficiale. In realtà in questi ambienti si parlava anche d'altro. Lui diceva che le trasfusioni di sangue fatte fra il popolo, fra i diversi intellettuali per esempio, le trasfusioni di sangue continue potevano aiutare a creare una sorta di comunanza, soprattutto fra le menti e negli spiriti delle persone. Ed è morto di questo perché ha cominciato a fare trasfusioni, ma era un scienziato questo, ma non era, ovviamente parlandone così sembra semplicemente un pazzo, in realtà era un personaggio con grandissime responsabilità e anche con delle qualità diciamo intellettuali, certo poi in alcuni casi non le ha dimostrate assolutamente. È morto per queste trasfusioni continue che si faceva. Quindi il ruolo del sangue per creare una società egualitaria, questo è un elemento magico assolutamente, perché il sangue assolutamente ce la possono raccontare come vogliono, ma è usato nella magia, nell'occultismo, è proprio il fluido per eccellenza. È anche una parodia della religione perché nella religione cristiana c'è il sangue di Cristo, che ha una sua importante, che rappresenta però il sacrificio, qui c'è sempre un po' in questo misticismo al contrario, c'è sempre una parodizzazione degli elementi religiosi tradizionali. Hai fatto benissimo a sottolinearlo perché è vero, certamente per loro questa non era semplicemente una parodia ma era una controreligione e lui ha scritto anche questo romanzo, si chiama Stella Rossa, che è stato tradotto dalla Sellerio, è stato tradotto appunto da, io ho anche questa edizione di una piccola casa editrice che si chiama Alcatraz, che è abbastanza impressionante perché è la storia di un uomo che va su Marte, è stato scritto nel 1907, pubblicato nel 1908 e trova su Marte, viene invitato, viene portato su Marte, trova su Marte una società comunista pienamente attuata, attraverso lo scambio del sangue e gli esseri umani che sono andati su Marte, attraverso queste trasfusioni, attraverso l'atmosfera marziana, si sono trasformati anche fisicamente e sono diventati fondamentalmente degli extraterrestri con degli occhi molto grandi e una bocca molto piccola, lui descrive molto bene, come se li vedesse, sembra quasi che abbia avuto delle visione e sono grigi e questo ci ricorda qualcosa, credo perché… Il famoso alieno di Crowley. Esatto, esatto e infatti poi ci sarà tutta una serie di scrittori che riprenderanno questi elementi e che li porteranno anche in Italia, noi conosciamo Sicin, conosciamo questi autori, ma sono stati tanti, uno molto importante era… Italiano, Colosimo. Sì, Colosimo, ecco, esatto, Peter Colosimo. Colosimo di cui io ho lessi tantissimi libri quando ero ragazzo, ragazzino… Penso che quelli della mia generazione tutti… Esatto, facevano dei numeri incredibili di vendite questi libri, lui era un, si dice anche probabilmente un agente, nel senso che era andato in Russia, si era convertito, disse lui, al comunismo ed era tornato in Italia, aveva scritto queste decine e decine di libri nei quali parlava fondamentalmente di temi cosmisti, cioè introduceva in Italia questo irrazionalismo materialista proiettato nello spazio. Ecco, diciamo però che il primo esempio è quello di, appunto, di Bogdanov. E un altro importante funzionario, anzi poi dirigente comunista, questo fu un prometeista proprio, un costruttore di Dio, faceva parte di questa setta, diciamo, all'interno del marxismo, era Lunacharsky. Lunacharsky lo conosciamo perché è il ministro della pubblica istruzione, il commissario del popolo pubblica istruzione per più di dieci anni, da 1917 al 1928-29, fino alla morte, è colui che crea il sistema della censura e che ha degli interessi, lui, da comunista, marxista, materialista, ha degli interessi fortissimi nei confronti del buddismo, di Nicholas Rurich, della magia, dell'esoterismo, di tutti questi elementi, e naturalmente della teosofia, dell'antroposofia, di Nietzsche, del pitagorismo, tutti questi elementi. Ma sono degli interessi militanti, non sono degli interessi così, no? Perché, tra l'altro, era anche pericoloso in certi periodi tenere certi libri, no? In questo regime si poteva morire solo per questo, ma a loro era consentito, a loro era consentito. Non al popolo, perché, come giustamente dicevi tu prima, con la presa al potere di Lenin, no? Nel 1917, inizia una distruzione sistematica, non solo dell'ortodossia, di tutto quanto veniva considerato contro rivoluzionario e irrazionalista. Quindi, al popolo tutto questo non veniva concesso. Sappiamo, ne abbiamo parlato prima di questa lega degli atei militanti, no? Dei senza Dio, no? La lega dei senza Dio che andava in giro a propagandare l'ateismo e aveva anche poteri di vite di morte sulle persone e questa si forma, diciamo, prima è una struttura interna al partito, poi diventa una lega vera e propria, quindi un'associazione molto potente attorno al 1925, comunque era già attiva prima, distruggono centinaia di chiese, non so quante persone e fanno sparire dalla faccia della terra decine e decine di gruppi religiosi di derivazione ortodossa, no? Questo soprattutto fra il 1917 e il 1925. Quindi fanno sparire l'ortodossia, cioè uccidono, distruggono sulla mosca, sono centinaia le chiese che in pochi anni, credo 600, che in pochi anni vengono distrutti fino a gennaio del 1924. Però gruppi dirigenti al loro interno avevano di queste pratiche, di queste credenze che derivavano dalla teosofia, che derivavano da tutti questi movimenti. Qui potrebbe anche essere interessante fare un brevissimo schema, diciamo, temporale, perché c'è un periodo che va dalla rivoluzione fino all'incirca alla morte di Lenin nel 1924, che è un periodo nel quale dominano all'interno del partito, nei ruoli più alti, degli irrazionalisti, no? Appunto Lunachowski, tutti questi, Bogdanov, eccetera. Dopodiché, alla morte di Lenin c'è un giro di vite, perché il potere passa non subito, man mano, a Stalin. Stalin non tollera questo tipo di movimenti, non tollera questo tipo di razionalismi, li considera contro il proletariato, contro il popolo e contro i rivoluzionari e quindi questi pian piano spariscono. Resterà solo, cioè entro, direi la metà degli anni 30, nel 1935, spariscono. Resta solo il cosmismo, perché il cosmismo serviva per, diciamo, il progetto di andare nello spazio. Tanto è vero che è notissimo il caso di Yuri Gagarin, il primo uomo che è andato, no? Che dice quella stranissima frase che è un omaggio, è un omaggio ai cosmisti, quando va in orbita e dice non ho trovato Dio, ma insomma per quello che ho trovato ringrazio Khodorov, Bogdanov, eccetera. Quindi nell'astronautica russa questo elemento resta. E poi c'è il discorso invece di Stalin. Stalin, anni 30, diciamo, il potere pieno, lui ce l'ha probabilmente nel 41, quando diventa non solo il capo del Partito Comunista, ma anche proprio il capo dello Stato, e lui fa un'operazione diversa rispetto a Lenin, a Trotsky, a Bogdanov, a quelli che Lunachowski, quelli che avevano governato fino a quel momento, con delle stragi terribili. Lui fa le stragi, continua le stragi, perché sappiamo che il comunismo ha una quantità terribile di distruzione, di morte. E qui sarebbe bello veramente approfondire, ma anche che certi storici approfondissero, quelli che possono andare in certi archivi. La cosa singolare è che Stalin continua l'opera di strage nei confronti delle chiese ortodosse che sono secondo lui occidentalizzate, o che si sono influenzate da elementi controrivoluzionari occidentali o dal cattolicesimo. Quindi fa strage di ucraini, fa strage di soprattutto gli ucraini, quindi l'acchi eccetera. Però preserva, o perlomeno evita la distruzione totale del patriarcato di Mosca. Ed è stato lui che nel 1944 reinstalla fondamentalmente a Mosca, nella cattedrale, Sergio I, patriarca di Mosca, che è il patriarcato che c'è ancora oggi. E che è quello, stranamente, che in un certo senso, fra tutte le chiese ortodosse, in un certo senso si è preservato di più. Questo è un mistero tremendo della storia. Quanto a Stalin, beh, appunto, forse dicevamo prima che ci sono degli storici che trovano che ci siano degli elementi per considerare Gurdjieff, il mistico, l'esoterista, tanto importante in Occidente, molto vicino a Stalin. Ci sono delle testimonianze, ci sono dei documenti. a me questa tesi di Moore convince, però non c'è ancora, insomma, nella storia non si può mai dire l'ultima parola. Però ci sono degli elementi veramente molto suggestivi. Ma per adesso anche mettere un punto su alcune questioni, io proporrei di considerare un po' la questione del corpo di Lienin, della sua imbalsamazione. Tra l'altro, questa preparazione della salma di Lienin, che non è momificata in senso tradizionale, ma secondo un procedimento particolare che preserva praticamente la pelle idratata, una cosa molto particolare. E poi c'è il discorso del cervello, che lui ordina che venga sezionato in 200 parti conservate e credo che sia stato un amico teosofo di Lienin, un certo Oscar Vogt, a preparare appunto questo. Sì, questa è una cosa da raccontare, secondo me. Assolutamente, assolutamente. E c'è un racconto, allora, direi anche, prima di iniziare, di fare un'osservazione che io trovo molto affascinante, il processo della preservazione, perché non possiamo chiamare l'imbalsamazione, è una preservazione molto particolare che in un certo senso preserva proprio la pelle di Lienin. Questo processo ricorda molto da vicino, ci sono degli elementi impressionanti di comunanza, di vicinanza che potremmo richiamare, oggi direi non facciamo a tempo perché ci porterebbe molto lontano, ma ci sono altri due casi di potenti che sono stati preservati più o meno bene e che dovevano servire alla causa della conservazione del potere, ma in un modo magico, degli elementi magici. Attorno a queste tre imbalsamazioni o queste tre preservazioni ci sono sempre degli stregoni, degli esoteristi. Uno è il caso di Mazzini. Mazzini che viene mummificato da Paolo Gurini e c'è tutto un discorso attorno alla imbalsamazione della salma di Mazzini, di Mazzini che è impressionante e che lo avvicina al caso di Lienin. E l'altro, questo avviene ovviamente molto prima, nel 1873, e l'altro è il caso della preservazione della salma di Evita Peronna, che è molto simile a quella di Lienin. Ecco, questo per dire che ci sono altri casi, no? E che in tutti questi casi troviamo degli, chiamiamoli così, degli strani personaggi che stanno attorno a queste, a questi letti di morte. Il caso di Lienin è molto, molto interessante, è stato, non so quanto, è stato studiato sicuramente, ci sono dei libri, o poi magari consiglierò anche qualche libro, qualche buon libro che parla di questi argomenti. È stata raccontata la vicenda della preservazione della salma di Lienin, cercando anche di spiegare quali siano state le ragioni recondite, più o meno, perché c'è molta reticenza, in realtà dal figlio dello scienziato che lo preservò, no? Diciamo, si chiamava, questo signore si chiamava o si chiama Ilia Zbarski. Ilia Zbarski era il figlio di Boris Zbarski, il quale nel 1924, subito alla morte di Lienin, forse anche poco prima della morte di Lienin, gennaio del 1924, riceve l'incarico di preservare questo corpo. E la biografia del figlio di questo signore, che ha, cioè la biografia scritta dal figlio di questo signore, è piena di elementi interessanti, perché questo biochimico aveva studiato a Ginevra, era dentro alla rete teosofica, però anche quella rivoluzionaria bolscevica che si era formata a Ginevra, conosceva bene Lienin, conosceva bene Trotsky, anzi ha aiutato Trotsky ad uscire dalla Russia quando è caduto in disgrazia, ha una storia molto interessante di legami, di collegamenti, eccetera. A un certo punto diventa socialista rivoluzionario, poi diventa bolscevico e viene chiamato appunto a questa preservazione. E la cosa interessante è che lui si richiamava, pur essendo materialista, nel senso così si considerava tale, si richiamava alle arti dell'imbalsamazione dell'antico Egitto. Lui diceva che si considerava una sorta di sacerdote, lo chiama Parashita, si chiamava Parashita, si autodefiniva Parashita, e anche il figlio lo chiama così, che aveva delle conoscenze forse tenute per via familiare, non lo fa capire bene il figlio, però usa questo linguaggio un po' sacrale, eccetera, e quindi compie questo atto di preservazione del corpo che è assolutamente all'avanguardia per il tempo, appunto perché viene pompato costantemente all'interno del corpo di indietro in un liquido che lo preserva, insomma non lo fa, ma usa una terminologia che è sacra, che è esoterica. Il libro a cui faccio riferimento si chiama All'ombra del mausoleo, All'ombra del mausoleo, ed è stato pubblicato una quindicina di anni fa, ma credo si trovi ancora, da Bompiani, si chiama All'ombra del mausoleo ed è la storia di Boris Zvarsky. Quindi qual è il significato di questa preservazione? Ma innanzitutto ce ne sono vari, ci sono varie motivazioni probabilmente. Non si sa innanzitutto chi l'ha decisa questa questa preservazione. Per esempio Stalin dice che ci sono dei compagni della della campagna che vogliono, però non dice chi siano questi, fosse stato lui, però attorno c'erano un po' tutti quei personaggi di cui abbiamo parlato prima, quindi Bogdanov eccetera. Certamente, e questo noi lo vediamo da tutta una serie di testi che sono pubblicati attorno all'anno della preservazione del corpo di Lenin, si era convinti che si potesse un domani, lontano, vicino, lontano, certamente, riportarlo in vita. Cioè Lenin è morto, Lenin dorme, Lenin sorgerà dai morti. Questo lo scriveva Majakowski, il poeta della rivoluzione. Quindi questa era una delle ragioni, preservarlo in modo che un giorno lo si potesse far risuscitare. Questo risulta agli atti, scrivevano proprio libri su questa cosa. Poi c'è la questione del mettere il capo, il precursore della rivoluzione, perché il capo della rivoluzione, diciamo, era il piccolo padre, era Stalin in quel momento, quindi c'era una sorta di dio morto che era Lenin che doveva risorgere. E un dio vivente che era Stalin. E dio vivente che era Stalin, certo. Cioè questa simbologia, tra l'altro appunto viene collocato questo mausoleo di fronte alla cattedrale, comunque la chiesa più importante di Mosca, fuori dal Cremlino ma accanto al Cremlino. E viene, tra l'altro, costruita questa strana architettura che è una sorta di zikkurat. Per esempio Dolcetta, se non sbaglio, ci sosteneva che, o comunque in un testo che ho letto, che probabilmente riporta delle notizie simili al documentario cui facevi cenno prima, diceva che questa è una piramide, questo mausoleo rosso di profido nero di labradorite che si trova a Mosca, è una sorta di piramide che ha il vertice tronco perché si vuole troncare l'unione diciamo con dio, cioè perché si rinuncia alla proiezione soprannaturale. Può essere, però in realtà se noi andiamo a vedere i modelli degli zikkurat babilonesi, vediamo che questo è uno zikkurat di tipo babilonese. Quindi il richiamo culturale è quello che faceva Zbarski, il quale sosteneva che gli egizi, da cui suo padre aveva preso questa dottrina della imbalsamazione, a loro volta l'avevano presa dagli babilonesi, questo lui lo scrive, e guarda caso Lienin viene collocato in una cripta che è sotto una piramide a gradoni di tipo zikkurat babilonese. Tra l'altro proprio sulla cima di questo zikkurat, se uno lo guarda, di questo mausoleo, dove c'è la scritta Lienin in nero, poi ci sono dei gradoni, sei gradoni, diceva l'architetto, sei gradoni rossi, e in cima il settimo è una sorta di tempietto, un tempietto che non può contenere nessuno perché è troppo piccolo, quindi è un tempietto simbolico, ma a cosa serve quel tempietto? Certo c'è una costruzione magico-esoterica qui evidente, e posso aggiungere una cosa che rimanda anche al progetto della tomba di Mazzini, che ci sono delle forme che vengono utilizzate in questo mausoleo del capo del marxismo Lienin, che fanno, diciamo, che secondo la teosofia, che era praticata dall'architetto Shushchev e dal suo mentore che era Malevich, due architetti diciamo che hanno presieduto, comunque che hanno influenzato la costruzione del mausoleo di Lienin, la forma definitiva del mausoleo di Lienin, sostenevano che queste forme proiettano nella quarta dimensione, cioè fanno sconfiggere il tempo, quindi c'è una costruzione, potremmo andare avanti ancora, sulle simbologie del colore, sulle pietre che sono usate, che avevano un uso magico nelle antiche civiltà, cioè noi troviamo nel cuore di questo regime che avrebbe realizzato il materialismo più assoluto delle soluzioni anche architettoniche che sono di tipo magico, che sono di tipo, diciamo, anche occultistico, comunque magico. Come si potrebbe spiegare questa cosa? Posso azzardare una ipotesi, credo di non essere neanche l'unico ad azzardare una cosa di questo genere, che richiama, bloccami quando vuoi. No, perché sono cose talmente poco note, che fra l'altro erano completamente ignote anche al popolo, per il quale si era costruito questo mausoleo, il senso vero di questa costruzione, di questa offerta di un Dio morto alla devozione in pratica del popolo, era totalmente ignota al popolo. Il popolo era immerso nel materialismo, invece c'era tutto un altro significato che era, possiamo dire, a livello settario proprio. Ah certo, peraltro noi in certi casi possiamo solo fare delle induzioni, possiamo ipotizzare, perché su alcune cose non abbiamo, però diciamo che i documenti parlano abbastanza. Come è possibile conciliare il materialismo assoluto con queste convinzioni che le forme, che l'unione mistica del popolo possono costruire una sorta di Dio che poi per Bogdano era Lucifero, ovviamente comunque demoni, creature, ma certamente si spiega anche con l'ascendenza teosofica di molti di questi personaggi, Lienin compreso, perché Lienin e Trotsky, noi li ritroviamo nei primi anni venti a Monteverità, ad Ascona, che è un mondo sul quale si potrebbe parlare, è una delle centrali delle rivoluzioni del Novecento, a Ascona, Monteverità, sopra il Lago Maggiore, lì si trovano tutti, tra gli anni dieci e gli anni venti, ci sono tutti quelli che faranno le rivoluzioni di destra, di sinistra, non ha importanza, sono tutti lì e si conoscono. E la cosa diceva fondamentalmente la teosofia, questa dottrina che oggi sembra buttata, sembra molto agé, sembra molto antica, trascurata, ma che in realtà ha avuto un'influenza fortissima in tanti campi. Beh, insomma, la teosofia insegnava a questi uomini, Lienin, Lunacharsky, Bogdanov, tanti di questi Malevich, che esiste un corpo, cioè che il nostro corpo non ha solo lo spirito, anzi, secondo loro quello non ce l'ha, ma certamente ha tre livelli di, come dire, di materia attenuata che sono in un certo senso spirituale, ma è sempre il corpo che agisce e che sono il corpo, cioè il corpo fisico, poi c'è il corpo astrale e poi c'è il corpo mentale. Questi due corpi, questi due involucri che sono successivi al corpo fisico, poi ci sono quelli superiori, no? Ma può essere che loro non credessero a quelli superiori, può essere di sì. Ad ogni modo, questi primi due possono avere un influsso fortissimo sulla realtà. Quindi, per esempio, movimentando le masse in un certo modo, le masse popolari, si poteva creare qualcosa che poteva influire sulla realtà. Ecco perché l'occupazione di una piazza, anche quando è un po' misteriosa, non è mai senza significato. Adesso io mi riferisco a un fenomeno contemporaneo. Ecco, non è mai, 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 perché lì agiscono, qualcuno comunque queste cose le considera, poi sicuramente la gran parte, cioè le persone che partecipano a questo tipo di movimenti, non lo sa, ma queste cose ci sono, vengono considerate, è la cosiddetta politica ermetica, no? C'è anche una rivista che si chiama Politica ermetica che studia proprio questi aspetti. quindi è un po' lì che bisogna guardare la teosofia e gli influssi o le successive incarnazioni della teosofia. Quindi, intanto, per riassumere l'importanza di Fyodorov, di Lunacharsky, di Tsiolkovsky, e posso fare anche un passetto in là su un paio di altri personaggi estremamente influenti in quegli ambienti, in quegli anni, soprattutto della prima fase del bolshevismo, 1917-1925, diciamo, quando, 24-25, quando muore Lenin. Per esempio, richiamerei alla memoria il personaggio di Nikolai Savinkov. Il personaggio di Savinkov è stato un, appunto, un rivoluzionario, un social rivoluzionario, un, era amico dei, 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 dei simbolisti russi, era affascinato dalla teosofia naturalmente, a un certo punto diventa bolshevico, e scrive dei romanzi molto influenti in quell'epoca, uno attorno al 1910, un altro attorno al 1924, che si chiamano Il cavallo bianco, ciò che, ciò che non succede, e Il cavallo nero, del 1924, nel quale fondamentalmente ripropone le idee dell'immortalità, della rigenerazione rivoluzionaria e di, appunto, tutto quello che la rivoluzione sovietica poteva dare al mondo, propone delle idee che oggi definiremmo transumaniste, cioè questi sono dei transumanisti fondamentalmente, e questo personaggio, molto colto anche lui, legami importanti con artisti, con filosofi, eccetera, è uno degli attentatori dell'omicidio di un Romanov, di un granduca, Sergei Romanov, nel 1905, quindi questi facevano anche cose pratiche. La cosa singolare, ma non tanto singolare, e qui mi richiamo ad Ascona, a Monteverità e a quegli ambienti, è che, quando poi esce dalla Russia, questo diventa, tra virgolette, un estremista di destra. Quindi, destra e sinistra, per questi personaggi erano assolutamente, erano dei mezzi. Quello che a loro interessava era rigenerare il mondo, distruggerlo, rifarlo. E la sua, diciamo, il destino di Savinkoff, che muore nel 1925, ricorda molto quello di Nicola Bombacci. Nicola Bombacci, qui apro una parentesi e la chiudo, è l'amico di Mussolini, socialista, rivoluzionario, eccetera, che poi diventa bolshevico, che va in Russia, che vive tantissimi anni in Russia, diventa marxista di quelli assolutamente ortodossi. Poi invece torna in Italia, quando c'è la Repubblica Sociale, e muore assieme a Mussolini, perché lui si considerava un fascista perfetto. E in quanto marxista, fascista perfetto, quindi qui si vedono dei cortocircuiti straordinari. Ne ha Nicola Tesla con i... Assolutamente. E muore con... è uno di quelli che vengono appesi in piazzale Loretto. Nicola Bombacci, Arrigo Petacco, ha scritto un libro che si chiama Il comunista in camicia nera. E troviamo questi personaggi. Anche lui legato a, diciamo, strani movimenti, la teosofia c'è sempre di mezzo alla teosofia, la teosofia ha avuto un'influenza veramente importante. Ti volevo chiedere una cosa, perché parlando dei leader imbalsamati, comunque in attesa di una risurrezione, anche questo è una parodia, chiaramente, della religione. C'è anche il caso di Kim Il-sung, l'ex dittatore, il padre di Kim in Corea del Nord. Sì. Anche lui è conservato in questo mausoleo, ma c'è una cosa straordinaria della... Praticamente la Corea del Nord è ancora guidata da lui, cioè è l'unico paese al mondo che è governato da una mummia. Da un morto. Da un morto. Ho visto un documentario, sì sì, impressionante. Quindi il figlio, sì, fa le funzioni di un padre che è morto, ma che è ancora il padre della... E c'è uno stato anche di lutto permanente, perché ci sono delle, possiamo chiamarle equivalenti delle prefiche, che H24 sono dentro il mausoleo di Kim Il-sung e piangono questa perdita fatale di questo grande leader. Quindi anche qui c'è il richiamo a questi vecchi riti, i faraoni moderni, insomma. Assolutamente. Poi c'è anche il caso di Nicolae Ceauzescu, che aveva degli strani legami con la mitologia tipicamente, insomma, transilvanica di Vlad Tepes. Pare che lui passasse delle vacanze nell'isola dove c'è la tomba di Vlad Tepes, che nel momento in cui ci fu la sua cacciata, il suo rovesciamento, cercasse di ritornare, di rifugiarsi in quest'isola. Poi ci sono dei racconti strani dove dice che dopo morto il suo cadavere sembrava ancora vivo, non aveva i segni, insomma, tipici, insomma, della morte. Quindi anche qui c'è tutta una simbologia del sangue anche legata a Dracula. Assolutamente. Non so se ti ricordi, c'era una dottoressa che aveva inventato un siero, il Gero Vital. Per la lunga vita. Per la lunga vita. Quindi si ritornano questi temi un po' in tutta l'ideologia comunista, quella poi che è stata messa in pratica. Sarebbe anche interessante vedere, sentire se, prima abbiamo parlato di Engels, ma se anche Marx avesse qualche legame con l'esoterismo, con l'occultismo. Ma c'è quel famoso libro che io ho, adesso non ho pensato di cercarlo, scritto da quel pastore americano, tedesco, nel quale sostiene che lui fosse un satanista, diciamo, e che fosse un gran maestro del satanismo internazionale. Cioè questo pastore, che era un comunista che si era pentito, porta all'attenzione del lettore tutta una serie di testi scritti da Marx, nei quali lui fa il nianucifero a satana, eccetera. Può anche darsi che fossero delle forme di protesta, ribellione simile a quella di Carducci, eh? Ma sulla questione della preservazione e imbalsamazione, certo, ma tutti i capi comunisti importanti sono stati imbalsamati. C'era Dimitrov, il capo del comunismo bulgaro, c'era Gottwald, il segretario generale della Repubblica Ceco-Slovacca, c'è Ho Chi Minh, Mao, 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 Mao. Mao, Mao non riescono, Mao. In alcuni di questi casi tentano di costruire degli zikurat simili a quelli, appunto, di Lenin, ma poi succedono varie cose. Lì probabilmente in alcuni di questi casi in Estremo Oriente Kim Il-sung è attiva una concezione sciamanica che però è simile in fondo a certe concezioni della teosofia, è il culto degli antenati, quindi lui è morto ma è vivo e comunque rivivrà perché la scienza socialista riuscirà un domani a rimetterlo in piedi. Nella fase successiva alla morte di Stalin e di Khrushchev, quindi Briesnev e tutti quelli che vengono dopo, questo irrazionalismo germina di nuovo, torna fuori. Quindi abbiamo tutta questa serie di veggenti vicino ai capi comunisti dell'Unione Sovietica che per esempio sono stati studiati da Giorgio Galli. Giorgio Galli ha scritto molto su queste cose dicendo che appunto queste forme, il cosmismo è tornato in auge con per esempio con Gorbachev. Gorbachev si presenta a un certo punto col figlio di Nikolas Ruric, Nikolas Ruric era un personale, ah poi c'è tutto il filone che non abbiamo toccato ma comunque ecco che è molto interessante, dell'interesse dei russi, degli alti papabili russi per il Tibet e per il buddismo tibetano che è un buddismo per modo di dire, cioè in realtà sono delle pratiche Kali Shivaite, no? Sono Shiva e Kali, magia proprio, magia vera e propria. C'è un libro famoso che si chiama Red Shambala, Magia, profezia e geopolitica nel cuore dell'Asia di Zamensky, lo mostro, che parla proprio di questo interesse costante dei russi per la magia tibetana e cosa ci ricorda questo? Ci ricorda certi viaggi dei nazisti in Tibet alla ricerca di… Esatto, esatto, e negli stessi anni o comunque un po' dopo proprio il re di Shambala, la Shambala rossa, cioè la Shambala che sarebbe il centro del re del mondo fondamentalmente, che qui verrebbero fuori discorsi molto scomodi, insomma, il re del mondo l'arte, Ghenon, eccetera. Ti interrompo un attimo perché prima abbiamo parlato di come si riempiono le piazze, del discorso di quale valore può avere proprio la risonanza di tante persone assieme in un certo significato. Ma questo è un fenomeno che abbiamo vissuto nel 66 con la rivoluzione culturale, le Guardie Rosse. Certo. Dove lì c'è stato, perché qualcuno dice ma non è mai successo che abbiano riempito le piazze contro l'opposizione. Beh, la rivoluzione culturale è stato quello. Nel momento in cui è emersa una fronda interna contro Mao, dovuta anche al disastro del grande balzo in avanti, quando si crea appunto una dirigenza che cerca di scalzare il grande timoniere, il grande timoniere crea il movimento delle Guardie Rosse che di fatto colpiscono quelli che sono i suoi nemici. Quindi c'è anche il discorso dell'indottrinamento dei giovani, proprio dell'utilizzo di giovani e giovanissimi, anche era utilizzato anche dalla Lega dei Senza Dio. Facevano queste sorte di scampagnate che chiamavano Venturina, dove portavano questi ragazzini in campagna, anche, insomma, eco di ambientalismo antelitteram. E questi ragazzini andavano, facevano una sorta di boy scout, insomma, facevano queste scampagnate, dove andavano nei villaggi e il compito era andare casa per casa, rimuovere le immagini sacre e sostituirle con le immagini dei padri della rivoluzione. Era una forma di indottrinamento messa sotto forma di gioco, di intrattenimento per i giovani. Assolutamente. Quindi non c'è niente di nuovo, nessuno sta... Assolutamente, assolutamente niente di nuovo. E qualcuno conosce, diciamo, il modo di usare, di muovere certe cose. Voglio fare un'altra provocazione, perché prima si è parlato dell'astronautica. Sì. Astronautica che è un filo che, insomma, lega molto il dopoguerra del secolo scorso e culmina nel 69 con l'impresa, la grande impresa dell'uomo sulla luna. Ma vedendo i personaggi che erano coinvolti nell'astronautica, prima abbiamo citato appunto... Jack Parsons. ...la parte russa. E poi c'è questo Parsons, che era uno che voleva anche creare l'anticristo. Insomma, era uno assolutamente... Però uno scienziato di primo livello, e questo è la questione. Sì, 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 ma infatti... Il padre della propulsione, Jet Propulsion Laboratory. È evidente che potrebbe esserci stato anche un significato esoterico anche in quella missione, in quella grande missione. Quella americana? Eh sì, beh, Apollo, questi nomi... Ci sono tante cose che lasciano un po' così, eh? Sì, sì, come no? Non è che uno diventa complottista, ma se certi personaggi obiettivamente stravaganti sono i padri di una cosa molto... che ci viene venduta come molto concreta e molto realistica, dopo vediamo che dietro c'è tutto un apparato di mistero e di misterico, quindi è giusto che qualcuno alla fine dubiti che ci sia stata anche una volontà propiziatrice, forse. Ma assolutamente com'è. Ma certo, ma assolutamente. Adesso non apriamo questo... No, no, magari ne parliamo... Perché ci porterebbe lontano, ma è interessantissimo. E sono assolutamente d'accordo con te. Così come per i cosiddetti padri della bomba atomica, no? Quelli che hanno quella, è una vera e propria setta, secondo me. Adesso uso una parola molto forte, però ci sono degli aspetti su... che fanno molto pensare, no? Sul perché volessero spaccare la materia. Era proprio una forma di prometeismo. Cioè, ci sono anche questi aspetti assieme alla matematica, ma vanno insieme le due cose. Volevo aggiungere una cosa che riguarda la parapsicologia, no? Perché è stata molto importante, no? Nella cultura russa sovietica. Lo sappiamo perché tanti parapsicologi arrivavano da lì. Ma ci sono personaggi molto studiati che erano degli psicologi sperimentali, no? Come Zuck, Naum, Kotick. Questi personaggi di cui si parla ancora oggi. I quali facevano degli esperimenti per capire se si potesse leggere la mente delle persone. Tutti esperimenti che sono stati ripresi dagli americani, no? Nel progetto MKUltra, eccetera. E questi, perché erano convinti che si potesse arrivare a leggere la mente, controllare le persone? Perché erano assorbiti, erano imbevuti di dottrina teosofica. Chiamiamola teosofica in senso lato. Però alcuni di questi erano proprio dei teosofi. E quindi ritornano quei corpi eterici di cui abbiamo parlato prima, che sono materia attenuata. Non è spirito, è materia attenuata. È una proiezione del corpo che può arrivare dentro la mente degli altri persone e può influenzare le masse. Ecco perché la parapsicologia ha interessato tanto i russi. In tutto il periodo, per esempio, Max Ingorki era interessatissimo a questi fenomeni. E poi risorge fortissima con Briesnev, ma fino a Gorbachev e oltre. È stato detto che Gorbachev usava delle parole chiave, sia riguardo ai parapsicologi che aveva vicino, sia anche proprio alla sua dottrina, che derivavano direttamente da Fyodorov. Il personaggio che abbiamo perestroica, per esempio, lo si trova nei testi di Glasnost anche, nei testi di Fyodorov. Sono delle parole chiave proprio. Quindi cosa possiamo dedurre da tutto questo? Perché abbiamo aperto un filone interessante che possiamo continuare a sviscerare in una prossima volta. Perché ci sono appunto, io ho questa mia idea sul 69, 1969, che potrebbe essere stato un anno molto particolare, fondamentale. E quindi tutto, dunque c'è stato la Luna, poi c'è stato Woodstock, è stato anche qui discorso di 400.000 persone che nello stesso momento fanno la stessa cosa. Insomma, ci ritorneremo. Altre cose, fra il 68 e il 69 viene commercializzata la pillola anticoncezionale, diciamo, viene abolita la censura negli Stati Uniti nel 68. Esattamente nell'anno 68 viene abolita la censura e viene introdotto un nuovo sistema che consente di inserire cose che prima non si potevano inserire. E ce ne sono molte altre di queste. Bene. Magari ho qualche consiglio di lettura? Certo, certo, molto volentieri. Una cosa veloce, perché li ho, quindi... Certo. Questo è un testo sui cosmisti russi e soprattutto su Nikolai Fyodorov di Young, molto interessante, molto bello. The Russian copy. Io ce l'ho in italiano, vedi. Ah, l'hanno tradotto? Vabbè, io ce l'avevo da un po' di anni, ecco. Sì, sì, è in italiano. Questo qui è forse il testo più importante sull'argomento di Occult in Russian and Soviet Culture di Berenice Glatzer Rosenthal. Tutti testi pubblicati o dalla Oxford University Press o dalla Cornell University Press, quindi sono dei testi, diciamo, validati. Accademici. In italiano non è male questo di Nicola Fumagalli, cultura politica e cultura esoterica nella sinistra russa, con una presentazione di Giorgio Galli, della editrice Barbarossa. Ecco, poi per capire un po' gli ambienti nei quali si formano Bogdanov, tutti questi personaggi, io ho trovato illuminante, ci sono le piramidi qui, ci sono gli zikurat, necropoli di Vladislav Ciodasevich, personaggio che ho da raccomandare. Oppure anche Beli, Pietroburgo, vabbè, poi ce ne sono un po' di altri, ma comunque questi si trovano. Bene, così abbiamo anche dato la bibliografia. Eh, sì, essenziale, ma insomma. Sì, 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 poi ce ne sono altri. Va bene, io ringrazio Mario Arturo Iannacone per questa bella disamina di un qualcosa che forse pochi conoscevano, ma che, insomma, apre una porta molto interessante sulla percezione di un movimento, di una ideologia, di un periodo storico dove al popolo si è dato il materialismo, ma dietro a questo materialismo c'erano delle volontà, delle forze molto, molto poco materiali, se possiamo dire questo. Il primo periodo, diciamo, di Lenin, quel periodo assomiglia, secondo me, molto al nostro, ci sono molte analogie, e con questo chiudo. E con questo diamo la, insomma, la rivederci alla continuazione di questo piacevolissimo discorso. Grazie a tutti e lasciateci ovviamente i commenti qui sotto. Grazie. Buonasera. Se ti è piaciuto questo video, sono molto contenta e spero che ne troverai altri su questo canale che ti piaceranno. Magari li consiglierai anche ai tuoi amici. E se vuoi consigliare il canale, iscriviti e pubblicizza i suoi contenuti sui social. Ciao e grazie. Mi trovi sempre, solo, sull'orizzonte degli eventi. Ciao!